vado allora oggi siamo oggi siamo ora un po all'adige e adesso andiamo a vedere la casa di lisa e andrea ci troviamo nella zona giorno con i ragazzi abbiamo scelto un grande formato quindi un formato 90x90 effetto a cimento sui fai del grigio il materiale è stato scelto per abbinarsi bene i colori che abbiamo in mente nella loro casa quindi una cucina molto chiara un divano sui toni freddi e un elemento molto particolare adesso andiamo nel bagno zona giorno continuiamo con lo stesso pavimento della zona giorno per scaldare l'ambiente abbiamo scelto di utilizzare un effetto legno a spina in questo caso con un tono caldo ma il punto forte del bagno è l'arregamento studiato con greta quindi uno specchio molto particolare tondo di grandi dimensioni ceramica opaca e rubineteria in acciaio siamo sentiti al primo piano abbiamo scelto per scaldare l'ambiente di usare un effetto legno un formato 90x120 ed è lo stesso colore che abbiamo usato nel rivestimento del bagno zona giorno vi presentiamo adesso il bagno della zona notte il pavimento continua con lo stesso interiore abbiamo usato anche qui toni caldi e neutri il particolare più interessante è l'annesso l'ingresso in cui abbiamo realizzato il piano con lo scarico nascosto più l'acqua va a infilarsi nella fessura ma non vedo lo scarico vero e proprio rivestimento minimo con una zettina in tinta sostanziale ci troviamo poi a vedere anche la doccia una doccia molto grande non troppo lente abbiamo scelto di farla molto scura in questo caso per fare anche una doccia un po' romantica e la robinetteria, l'icidatori, il soffino a 3 minuti di tutto acciaio abbiamo pensato anche una nicchia per avere la possibilità di mettere gli oggetti senza dover trovare tutto quanto bisogno e per avere ancora più romantica un led all'interno in particolare che Alisa è vestito molto e anche i suoi amici che ci hanno appuntato abbiamo scelto di usare i sanitari e il termoredo in tinta con anche il mobile altrimenti mi vedrei il faccione di Roberto tipo gigantesco grazie